Incanto Tardo Gotico, una mostra che è veramente il frutto di sinergie caparbiamente volute, portate avanti dai Musei Vaticani, dal Museo Diocesano di Spoleto, ed è un bellissimo progetto di ricerca e di ricomposizione, di ricomposizione di un trittico particolare e importante, che è stato ricomposto grazie a tanta ricerca, a restauri, ma anche a tanta attenzione che i curatori, la curatrice, Adele Breda, dell'arte medievale dei Musei Vaticani, in collaborazione con Anna Pizzamano e con Stefania Nardicchi, direttrice del Museo Diocesano di Spoleto, hanno portato avanti. Il risultato è questo, che viene presentata a Spoleto per la prima volta e avrà poi una sede in Vaticano più avanti, ma si è voluto proprio riportarla alle sue terre di origini e il risultato, lo vedete, è un incanto, un incanto tardogotico, così abbiamo voluto denominare la mostra, perché quello che è stato fatto veramente sta del miracoloso e dell'incantato.